La Pace e Bene Primario della Vita La Pace e Bene Primario della Vita Ben trovati a questa edizione del TG Web, giovedì 28 gennaio il Vescovo Armando ha celebrato l'esequio di Don Giuseppe Nunzio Monaco, parroco di Calcinelli tornato alla casa del padre a 72 anni. Tante persone nel rispetto delle norme anti-covid hanno preso parte all'esequio e altrettante hanno potuto seguire i funerali in diretta su Fano TV. Nei confronti di Don Peppe, ha sottolineato il Vescovo Nello Melia, ho uno speciale debito di fraterna riconoscenza. In tanti hanno voluto portare il loro particolare saluto a Don Peppe, tra i quali Fabio Francesconi del gruppo Scout FSE, il sindaco di Colli al Metauro Andrea Giuliani e la comunità di Villa Chiara dove Don Giuseppe era nato il 29 novembre 1948. Sono certo, ha sottolineato Francesconi, che chiunque trovandosi al mio posto racconterebbe di un amico vero, dai modi talvolta severi e bruschi, ma capace di un affetto profondo. Il sindaco Giuliani ha voluto ringraziare Don Giuseppe per aver condiviso un lungo pezzo di strada insieme a noi e soprattutto quell'azione educativa e di sostegno che hai sempre considerato come una cosa da fare insieme, parrocchie, scuola, associazioni, istituzioni, ognuno per la propria parte e secondo le sue specificità, con l'unico obiettivo che è il bene delle persone, in particolare dei giovani. Commovente anche il saluto della sorella di Don Giuseppe Monaco, che ha voluto ringraziare tutti. La comunità di Villa Chiara ha affidato il suo saluto alle parole lette durante le esequie. In mezzo a tante difficoltà Don Giuseppe ha maturato presto la sua vocazione sacerdotale, fortemente motivato nel seguire il Signore. Non ha esitato a lasciare la nostra terra per completare la sua formazione nella vostra diocesi, che lo ha accolto come un figlio. E dalla parrocchia di Calcinelli ci spostiamo nella parrocchia Gran Madre di Dio, dove sabato 30 gennaio si è tenuta la preghiera per la pace, iniziativa, organizzata dall'Azione Cattolica Diocesana, in collaborazione con la Diocesi, la Caritas Diocesana, gli Scaud Europa FSE e la Comunità Papa Giovanni XXIII. È tempo di coltivare il principio della cura, ha sottolineato il Vescovo citando le parole del testo La cultura della cura come messaggio di pace, per debellare la cultura dell'indifferenza, dello scarto e dello scontro, oggi spesso prevalente. La cura proseguita al Vescovo è la necessità prima della vita umana, il bisogno primo di ricevere cura e di dare cura a comune ogni essere umano. Il Vescovo infine si è soffermato anche sulla cura del corpo. La bellezza aiuta a ringraziare Dio e aggiungo igiene mentale, fisica e spirituale. Il corpo che ci è dato deve essere custodito e curato. Curare anche il creato significa non disprezzare mai l'ambiente e rispettare ciò che è per tutti. Auguro a tutti di non scoraggiarci durante questa pandemia, ma curate le relazioni perché presto o tardi il mondo si riaprirà e noi non dobbiamo farci trovare inadempienti. Rimaniamo sempre in tema di pace. Domenica 31 gennaio alle ore 17 nella chiesa Santi Pietro e Andrea di Fenile si è celebrata la veglia di preghiera per la pace. Un momento molto vivo e partecipato durante il quale si sono succeduti video con testimonianze dei ragazzi sul significato dell'essere prossimi gli uni degli altri. Intervista a persone della comunità che nel proprio lavoro si prendono quotidianamente cura dei più fragili. E' una mostra dei lavori dei bambini più piccoli che hanno ricordato l'importanza della salvaguardia del creato. Come da tradizione anche quest'anno nel rispetto delle norme anti-covid, la comunità di Cucurano ha festeggiato il santo patrono San Biagio a cui è dedicata la chiesa. Il martire contraddice la logica del mondo perché risponde al timore della morte che odia la vita con un amore alla vita che non teme la morte. Quanto questo sia vero, Paolo ce lo ricorda con una domanda che suona come un'esclamazione. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Queste le parole del Vescovo Armando, mercoledì 3 febbraio, nella Santa Messa che ha preseduto nella parrocchia di Cucurano, nel rispetto delle norme anti-covid, in occasione della festa di San Biagio a cui la chiesa è dedicata. Il Vescovo si è soffermato sulla perseveranza collegata al tema del martirio. Paolo parla di perseveranza e nel Vangelo di Luca leggiamo, con la perseveranza salverete la vostra vita. La perseveranza è abbandonarsi alla fedeltà di Dio, il quale non permette che siamo tentati oltre le nostre forze, e alzare lo sguardo e cercare il volto del Signore. Martirio, ha proseguito il Vescovo, significa testimonianza. Il martirio cristiano si presenta come testimonianza di fede e allo stesso tempo come testimonianza non violenta della libertà religiosa. I martiri, ha concluso il Vescovo, ci insegnano che amano la vita fino a morire. In occasione della giornata della memoria, martedì 26 gennaio, in streaming, si è tenuta la seduta straordinaria del Consiglio Comunale di Fano, aperta dalla Presidente Carla Cecchetelli, che ha ricordato come solo, ricordandoci e rapportandoci al nostro passato, possiamo costruire il nostro presente. Presente in videoconferenza il Sindaco Seri, giornate come queste, ha sottolineato, servono a trasmettere messaggi forti alle nuove generazioni, nella speranza di una società che abbia la capacità di vivere al meglio e rispetto delle persone. Marco Labbate, vice direttore dell'Istituto di Storia Contemporanea di Pesaro, si è soffermato sull'importanza delle testimonianze di chi ha vissuto in prima persona quell'atroce pagina di storia. Purtroppo molti di loro oggi non ci sono più, ma devono rimanere con noi e nel nostro ricordo della Shoah. Il giorno della memoria non è un giorno singolo a cui si affida spesso un approccio emotivo, per quanto importante sia, ma accanto all'emozione bisogna affondare le radici nel campo della storia. Ospite relatore della giornata è il professor Francesco Maria Feltri, che ha tenuto un intervento dal titolo Viaggio visivo nei luoghi dello sterminio Varsavia, Treblinka e Auschwitz. Con l'aiuto di materiale d'epoca, tra cui numerose fotografie scattate in Polonia e in Germania, il professore ha esaminato la dinamica dell'odio antistemita nazista. Un viaggio dalla propaganda degli anni 20 fino allo sterminio degli ebrei in Europa, partendo dall'operazione barbarossa del 22 giugno 1941, con cui la Germania nazista invase l'Unione Sovietica, anni in cui iniziò veramente la soluzione finale, il professore ha ripercorso questa pagina di storia, mettendo in evidenza i punti salienti. In conclusione, l'assessore Samuele Mascarini. È necessario costruire, non solo il 27 gennaio, momenti di approfondimento come questo, che ci consentano di cogliere da una prospettiva storica la Shoah. Questa pagina del Novecento non appartiene solo al passato, ma con un bagaglio di grandi interrogativi anche al presente. E concludiamo il nostro telegiornale con alcuni degli appuntamenti di questa settimana. Venerdì 5 febbraio alle ore 18.15 online è in programma l'incontro Il pianeta che speriamo, ambiente, lavoro, futuro, tutto è connesso, che riprende il titolo della 49esima settimana sociale dei cattolici italiani, che si terrà nell'ottobre 2021 a Taranto. Appuntamento organizzato dall'Ufficio Pastorale per i Problemi Sociali e il Lavoro, in collaborazione con Lucid Fano, che ha l'obiettivo di illustrare i temi che saranno affrontati dall'Istrumento Laboris, ossia dal documento preparatorio alla settimana sociale. Relazionerà il professor Flavio Felice, docente all'Università del Molise e componente del Comitato Scientifico Organizzatore delle Settimane Sociali. Ricordiamo che sarà possibile seguire l'incontro anche in diretta streaming sul canale YouTube dell'Ucid Fano. Inoltre due saranno gli appuntamenti in diocesi in occasione della giornata per la vita. Il Movimento per la vita di Fano propone un'occasione di approfondimento e di studio sul tema della denatalità oggi. L'argomento verrà affrontato da esperti che saranno presenti al convegno del 6 febbraio, in diretta sul sito diocesano dalle ore 16.30. Sempre nella giornata di sabato 6 alle 20.30 è in programma, in presenza e anche in diretta sul sito della diocesi, la veglia di preghiera per la vita presieduta dal Vescovo Armando nella parrocchia di San Paolo Apostolo al Vallato. Ricordiamo ancora che nel trigesimo della scomparsa del Vescovo Monsignor Mario Cecchini, sabato 13 febbraio alle ore 18 in cattedrale, il Vescovo Armando presiederà la celebrazione eucaristica. Domenica 14 febbraio alle ore 11.45, invece nella cattedrale di Senigallia, il Vescovo Franco presiederà la celebrazione eucaristica. Per oggi è tutto, vi ricordiamo che è possibile seguire il nostro Tg sui nostri social e sul sito della diocesi, www.panodiocesi.it. Grazie per essere stati con noi e arrivederci. Grazie.